Eccoci oggi qui ragazzi Siamo su Time of Cry 5 e stiamo per andare a affrontare Il boss che all'inizio Ci ha un po' spaccato il culetto Allora, prima ho chiamato il camion Diciamo che il gioco mi è appena crashato Quindi lo devo ricominciare, quindi ho detto Vabbè, visto che lo devo ricominciare Registriamo, perché no? Così ci facciamo Una bella Partita insieme Ovviamente questo video lo sto girando In live Su Twitch, ma come sempre Lo caricherò su YouTube Perché Twitch, quindi Questa è sicuramente ragazzi Ogni volta che potete provare Su Twitch Ok Questo non mi stancherò mai di dirmi Finite su Twitch, mettete Follow, mettetemi il cuoricino Perché più cresciamo, più siamo Più ci divertiamo Allora, ne escono altri Sì, non è un uomo No, no, no No, no, no Andiamo! I am power absolute. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. You will suffer and die. I'll show you Deadweight. I'll show you Deadweight. I'll show you Deadweight. I'll show you Deadweight. It's working. The shield of yours? Done for you. I thought he got this stone. Oh no. We're going to get two more. Almost drunk. You're ready to get slapped? Never mind. So you say something? Oh no. Oh no. Oh no. Ok, ce l'abbiamo fatta. A questa. Sarebbe... Finalmente l'ho colpito, ma... Come dare you strike me? Che incassare. You will regret being bored.